benvenuti a meteo giuliaci.it domani mercoledì 25 settembre ancora tempo bello e soleggiato su quasi tutta l'italia eccetto un po di nuvole innocue sul nord italia ma vediamo l'immagine del satellite virtuale vedete un'italia sgombra da nuvole a parte una modesta nuvolosità sul nord italia allora il tempo che farà domani è tempo bello e soleggiato sulle regioni meridionali sulle isole maggiori sulle miglia romagna un po di nuvole qua e là sul resto del nord italia le temperature vediamo le temperature più o meno invariate intorno a 24 26 gradi sul nord italia 25 27 gradi al centro sud con qualche punta anche di 28 gradi bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buon giorno